buongiorno ascoltatori di youtube vi conoscete si sono invecchiato la barba però mi piace il tempo che passa perché può maturare la persona ascolti cinematografo può girarsi fotografare quei tre cammini lì dietro di lei ci sono tre cammini ecco quindi tre cammini avete capito la storia dei tre cammini i giorni della merla sono è venuto lì un uccello bianco diventato nero perché sono i tre giorni della merla infatti è denominata così la leggenda che i giorni della lamella fa molto freddo freddo e luccellini stanno vicino al cammino e cambiano il colore della pelle guardate qua giù di qua si va a panica poi venga scusi se la faccio correre cinematografo venga assistente del cinematografo venga guarda fotografa tutto qua qual è la casetta che io dovrò abitare lì quel balcone lì e sono qua esattamente a torchi bianchi ma torchi bianchi ma non confondete perché quelle palme lì ci sono anche piazza del duomo milano quella palma lì però non sono in piazza del duomo milano c'è il ricordo di una palma venga 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 stia attento che è passata una mucca per terra stia attento il cinematografico venga a vedere che bello questo posto torchi bianchi andiamo vicino alla chiesina andiamo 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 guarda fotografa guarda guarda la c'è talamona la in fondo morbegno la tutta la costiera dei cecchi di qua la ci sono le orobiche orobiche andiamo ma non ce la fa a correre questa è la panchina i migliori anni della nostra vita dove qui ho fatto un matrimonio qui è un matrimonio particolare però è ma giorni e per le emozioni guarda quelle piante lì scusa se mi batte il cuore e per le emozioni guarda quelle piante lì Ehi venga qua, qua si va, giù di là è Porcino, poi Porcellino c'è anche, Porcino e Porcellino il paese. Dove cosa fanno i Porci? Ma, ma, no perché c'era un santo qua che aveva in mano un maialino, allora il paese l'hanno denominato così, Porcino. Ecco, eh ma che bello, il mio habitat. Nel 1991 qui c'è stato l'incendio, ha rovinato quella casa, quella lì, l'incendio, però è rimasto il lavatoio. Basta, può chiudere perché sono stanco. Vai a fotografare il mio quadro, vada. Lala, lala, il mio quadro. Saluti, vai vicino a fotografarlo come finale. Grazie. Grazie.